E' davvero meraviglioso questo palla spalla fra Zain Jouade ed Ettore Scardecchio. Atleti! Prevate! Di ora ci sono qui! Uuuu! Running! Corriamo tutti insieme per la running! E' un show! E' un show! E' un show! Uuuu! Qua 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 qua! Tutti qua! Tutti qua! Bravi 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 bravi! Grandi grandi meravigliosi! Meravigliosi! Buona corsa e fate il vostro movere! Grazie! Questa splendida, questa venticinquesima edizione, è davvero meraviglioso! Questo palla spalla fra Zain Jouade ed Ettore Scardecchio. Guardate che bravissimo Ettore Scardecchio che applaude Zain Jouade. Un'ottima splendida, davvero finale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!